Come è andata la preparazione e come stanno i ragazzi? La preparazione è andata bene, abbiamo lavorato con grande impegno in tutto questo periodo, i ragazzi sono molto determinati, hanno mostrato un grande impegno, sono un po' i ragazzi nuovi che sono arrivati, che si stanno integrando bene con il resto del gruppo e quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. Mister, come si trova a Lecce e che impressione le ha fatto questa società? Mi sto trovando molto bene, sono arrivato sicuramente in una società organizzata, una società che lavora molto bene e l'ha dimostrato in questi anni con i giovani, quindi sono contento di poter dare il mio contributo cercando di trasmettere ai ragazzi quelli che sono i valori della società, i valori che anche noi ricerchiamo per cercare di far diventare dei calciatori e prima di tutto dei uomini. Sente attenzione e vicinanza da parte dei tifosi? Sicuramente sì, è una tifoseria che ha grande amore, grande passione verso la propria squadra, verso il Lecce e anche verso la primavera ha dimostrato sicuramente grande passione, quindi è qualcosa che sicuramente avvertiamo ed è uno stimolo in più per poter fare sempre meglio. L'avversario di domani è il Monza, che partita sarà? Sarà sicuramente una partita difficile come lo sono tutte in questo campionato, un campionato che ormai abbiamo imparato a conoscere, un campionato che ogni anno dimostra di avere un livello sicuramente alto, con tante squadre attrezzate, con tante squadre con valori importanti, per cui da parte nostra ci vorrà sicuramente grande impegno, grande voglia, grande determinazione per cercare di fare una buona partita.